Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale sono come sempre il vostro Volpe e oggi come vedete siamo su Express Tycoon. Allora il prologo. Allora vediamo le opzioni quando abbiamo l'italiano però. Nel gioco completo lo avremo. Ci facciamo tutorial. In pratica saremo un gestore di una caffetteria. Allora vediamo london. My name is Kim and I'll guide you on how to run the coffee business or at least tell you what I've learned during the past 20 years. Your first task is to come up with a fun brand name and identity for your coffee company that will attract people and scare away these annoying pigeons. Go away you stupid creatures. I'm sure you can make it fun for the people but these pigeons they drive me crazy. Ok in pratica bisogna allora fare il nome nel nostro. Ehm. Fate che voglio cambiare il nome, il logo, il font, colori e window, window, va benissimo. Ah si è buono che abbiamo accettato. Allora il logo intanto. Come vedete abbiamo qua il il nostro. Il nostro. Va via piccione piccione. Piccione? No. Allora caffè, chicchi, terzina caffè. Ok. Una stella. Blablabla blablum blablum blablabla blablum. Allora il quorum, un pacco real, un aereo. non c'entro niente. Ok allora noi ci facciamo questo qua è più classico. Facciamo questo. espressor. Allora qua abbiamo, cambiamo il font. il colore della tenda. Abbiamo viola, blu, blablabla blablabla blablabla. Facciamo un'altra classica, ok. Wow, what a brand! I bet your place will attract customers, like bees to honey. Now let's learn how to navigate around the scene. Ok. Ok. No, no. Ah, it's too long. Great! That's how you move around using the strategic camera. There's also a cinematic mode that gives you much more flexibility. Try it. Ok. 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 Cea buona camera. Apa si a fatto entrare dentro. Ok. Cinematic. A porca pepina. Cinematic mode. Piacere. Ok. 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 Saute tio caro. Cinematic mode. L'ho fatto. Perchè non me lo da? Eh. Tab. Cinematic mode. Perchè non me lo prende? Porca Luca. Culpe evolves del cuore. Un vece. Cilep. Un vece. Un vece. Un vece. Un vece. Ok, presa la camera, la sojuzione, ok cosa fanno, cosa fanno, cinematico sento, l'ho fatto, la mappa, 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 l'ho. Great, now that you're familiar with the camera movement, let's do some actual work. This coffee shop has potential, but it looks like a stinky dirty warehouse. Let's start by getting rid of the rubbish and these sheets covering the workstations. The coffee shop looks much better without all the mess, doesn't it? It still looks a bit neglected, though. Let's change that by repainting the walls and the floor. Ok. Allora, vediamo un po' che ti allora qua. Va benissimo. Ok. Ok. Allora. Allora, andiamo qua. Ok, va benissimo. Ah, il pavimento. Allora. Allora, cambiano flora. Ok. Allora, cambiano. Well, salve la porta. Ok, vediamo qua. Ok, vediamo qua. Ok, vediamo qua. Allora. Ok, va benissimo. La sedia. Ok. Ok. Allora. Intanto la sedia, giusto? Allora, per cambiarla. Quattro sedia e tablet. Ok. Allora, per cambiarla. Allora, qui. Ok. Allora, mettiamola qua. Allora, mettiamola qua. Allora, mettiamola qua. Quattro, mettiamola qua. Ci prendiamo un'altra, altre sedia. Allora, quella F si gira, come ho detto, ah, due tavoli, ecco no, non l'avevo vista. Allora, ci metto un tavolo, poi, poi, posso avvertavolarsi, ok, ecco, 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 you know how to buy decoration items. Allora, cosa vuoi fare le decorazioni? Ah, va, spero che si può spostare. Ok, allora. Ah, potevamo fare anche il color diverso. Faccio un miango un po'. Allora. E' un F appangeable. E' ok. Davolo, benissimo, c'è un segno, qui. Ci vedo una pianta. Ora. Ehm, possiamo vero. Ah, c'è uno. No, basta c'è uno. ok adesso ho un po di musica allora dove possiamo trovare quando c'è pavimento ok tu e te lo giriamo così lo mettiamo qua fatto ok ok adesso ok allora in pratica noi dobbiamo andare qua sul menu e andare su espresso ad menu allora lasciamo qua poi facciamo americano facciamo due 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 20 americano americano ah ok niente adesso eh no niente eh no niente eh no ho sbagliato io ho sbagliato io vabbè vedete il menu facciamo usare a casa adesso ok ti ho aggiunto due 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 cofie basi al menu comunque alcuniienti potrebbero essere abbastanza più amici magari va benissimo ah adesso ci faccio spiega com'è va benissimo allora qua allora qua posiamo ah le tazze allora noi ci facciamo la tazza allora ci facciamo espresso cold water hot water milk un po' del latte vaniglia allora espresso facciamo che lo faccio per eeeh c'è un po' quello tazzino eh però volevo togliere via schifezza ah qua possiamo togliere allora ci facciamo allora ci facciamo allora ci facciamo quello di espresso adesso con vaniglia passatoria così ho spruzzato dei miei hot water ok next decorazioni ci facciamo mettere panna o niente facciamo come sia ok poi poi panne allora va benissimo aspettiamo 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 espresso aspettiamo va benissimo adesso ok Ah, possiamo assumere, immagino, si, no, ah, qua è la cruda, Quante sono le 4.000, facciamo 5, ok, vai, vai, per cui ho appena fatto, ok, 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 c'è arrivato il pacco di Amazon, qua, Allora, possiamo rimettere qua, sul menu, che non abbiamo più spazio, Ok, 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 C'è scritto qua cosa devo ordinare, Allora, guarda, Milk, latte, lo sai, l'ho visto prima, Allora, 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 Sono cercato, io non trovo più milk, Allora, 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 Allora,